Il castello di Torre Chiara diciamo è la meravigliosa cornice che apre le porte proprio alla riserva Mabunesco e al territorio dell'Apenino Tosquimigliano. Un castello completamente affrescato, parliamo di affreschi tardo cinquecenteschi, di inizio seicento. Torre Chiara è uno dei massimi esempi della pittura grottesca all'interno dell'intero territorio del Parmense. Mi preme anche non dimenticare i meravigliosi affreschi della Camera d'Oro quattrocenteschi attribuiti al Bembo che narrano di questa storia d'amore tra Bianca Pellegrini e Pier Maria Rossi in maniera esemplare, raffigurata, rappresentata proprio dal Bembo nel tardo quattrocento. E soprattutto anche un'altra sala importantissima che è la Sala della Vittoria con questa esaltazione della pittura grottesca. Quindi parliamo di un tripudio di elementi vegetali, di frutta, di raffigurazioni di antichi castelli e di allegorie tutte rappresentate all'interno di questa sala. Il Sentiero dell'Arte è stata una delle recenti creazioni che è stata inaugurata proprio in occasione di Parma 2020, capitale della cultura. Si tratta di un sentiero di notevole importanza dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista culturale ed artistico. Lungo il sentiero il visitatore avrà la possibilità di ammirare delle installazioni d'arte contemporanea realizzate da alcuni artisti del territorio dell'Emilia-Romagna. Si tratta di opere che sono state realizzate utilizzando dei materiali poveri. Parliamo dell'acciaio, parliamo del ferro, solo per citarvi alcune tipologie di materiali. Il territorio di Torrechiare è attraversato da un antico canale chiamato Canale di San Michele, un canale importante che ancora oggi permette ai coltivatori del territorio di avere adeguate risorse idriche. Un territorio che come si vede è caratterizzato da vigneti ma anche da piantumazioni di pomodori che sono i prodotti cardine insieme al prosciutto, insieme al parmigiano reggiano e al vini dei colli di Parma del territorio nel quale siamo. All'adeguata portata d'acqua che garantiva l'antico canale di San Michele ha favorito da sempre il risparmio idrico e l'apporto idrico all'interno del castello. Quindi un castello che si trova immerso e che si trovava già al tempo immerso in un territorio particolarmente fertile. Quindi non è un caso il fatto che ancora oggi sia completamente circondato da innumerevoli distese di vigneti.